Sono molto soddisfatto del lavoro fatto oggi, una seduta impegnativa, oggi e ieri ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato a questi lavori. Oggi è la giornata di sintesi di un percorso che è iniziato due mesi fa, tre mesi fa, con l'idea di fare questa Assemblea federale dopo dieci anni per parlare di contenuti, di cose concrete, di progetti, di come articolare l'azione a tutti i livelli, dal Comune al Parlamento passando per le Regioni, come articolare l'azione concreta della Lega dando un'indicazione unitaria per raggiungere il nostro obiettivo. Un percorso iniziato mesi fa, che è passato attraverso le Assemblee provinciali, le Assemblee nazionali e che oggi si conclude con l'approvazione di sette mozioni elaborate dai gruppi di lavoro ieri, a cui sono arrivati i gruppi di lavoro oltre 90 mozioni, frutto delle idee nate nelle assemblee nazionali. Una grande ricchezza e anche le mozioni tutte, lo dico a Federico Briccolo, oltre a queste sette che sono la sintesi, anche tutte le altre, quelle che vengono dalle assemblee nazionali, dalle sezioni, devono essere tenute in considerazione e valutate perché sono fonte di suggerimenti, di proposte, di idee straordinarie. Questa ricchezza di proposte, di idee è la nostra forza, è la forza di un movimento politico, la Lega, che non teme nessuno, che non teme la competizione elettorale. Non abbiamo paura di nessuno, né del PDL, né di Forza Italia, né di chi oggi ha deciso, men che meno, direi, di seguire un'altra strada. Patti chiare amicizia lunga. Queste sono le nostre idee, questo è il nostro programma. Chi ci sta bene, chi non ci sta, è libero di andare dove vuole. Il mondo è grande, non mi interessa. Ma sono soddisfatto oggi anche perché ho visto vecchi leoni prendere la parola. Enzo Flego, dov'è? Dov'è Enzo Flego? È un vecchio leone che è già andato e mi è piaciuto molto la passione che ci ha messo per parlare di identità, per parlare di orgoglio. Lui, che come me e qualcun altro, è stato sottoposto al processo Papalia, che dura da oltre 15 anni, un processo politico che non ci ha affiaccato, anzi, che ci ha dato e continua a darci energia. Ho visto vecchi leoni, ma anche tanti volti nuovi, tanti giovani. E questa è la cosa che mi dà la certezza, che le nostre idee continueranno, perché sono le idee nate tempo fa, ma che oggi sono ancora di strettissima attualità. La questione settentrionale, il Nord, la Padania, sono al centro della nostra azione politica. Noi siamo l'unico movimento politico che ha un progetto. Gli altri hanno interessi personali o di gruppi. E quello che sta succedendo dentro il PD si vede. Litigano sui cavilli regolamentari, perché a loro non interessa il progetto del benessere, dello sviluppo economico, della libertà, tutti i valori che stavano dentro la vecchia sinistra. A loro interessano gli equilibri interni dentro il partito che si riflettono poi sul governo. Sono cose che noi lasciamo volentieri ad altri. Noi parliamo di cose concrete oggi. Parliamo delle nostre idee, dei nostri programmi. Impegniamo su queste idee i programmi i nostri amministratori. In primo luogo i tre governatori, Piemonte, Lombardia e Veneto, i nostri sindaci, i presidenti delle province, i parlamentari. Le emozioni sono piene di indicazioni e di impegni che noi dobbiamo realizzare. Oggi è la giornata della concretezza. L'azione di governo su cui la Lega ha investito, di governo dei territori, per arrivare alla Padania, oggi trova una indicazione ben precisa. Tutti noi siamo impegnati, parlo come governatore, anche a nome dei due colleghi, nella realizzazione della macroregione del nord. Si è tanto discusso di questo, dicendo ma che cos'è, ma come si fa. La macroregione non a caso è presente come metodo di lavoro in tutte le emozioni. La macroregione è un processo che abbiamo cominciato a mettere in atto per liberarci dalle catene dello statalismo italiano. La macroregione è un metodo di lavoro che si fonda su progetti concreti, le infrastrutture, la sicurezza, il trasporto, la qualità dell'aria, l'ambiente. È un percorso lungo, difficile e impegnativo, certo. Non è uno slogan. È un percorso lungo, difficile e impegnativo, su cui ci siamo impegnati tre governatori, che però non si chiude neanche nel panorama delle tre regioni che governiamo, perché è l'ambizione di essere un modello per la nuova Europa. Il 16 di ottobre assumerò la presidenza come governatore della Lombardia dei quattro motori d'Europa, altre tre regioni, la Catalogna, il Bad de Wittenberga e Ronalpa, per sei mesi. Quella per me è l'occasione per affermare il principio che l'Europa che vogliamo noi non è quella dei burocrati o degli stati nazionali, è la nuova Europa delle regioni e dei popoli. È un'occasione straordinaria e io voglio coglierla in pieno. Parallelamente si sviluppa proprio a livello europeo l'altro ambizioso progetto che è quello dell'euroregione padano-alpina, che comprende non solo le regioni del nord dell'Italia, ma anche le regioni di altri paesi. La Carinzia, per esempio, regioni della Francia, della Svizzera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il futuro è questo, la strada è questa e noi l'abbiamo intuito, noi l'abbiamo capito, noi lo stiamo realizzando attraverso l'azione di governo. È un'azione che ci impegna molto. Da governatore posso dirvi in questi sei mesi che è molto più difficile, impegnativo e complicato fare il governatore di una regione che fare il ministro dell'interno. E ve lo dico avendo fatto il ministro, quindi so di che cosa parlo. È molto impegnativo, ma è straordinariamente esaltante, perché qui hai davvero il potere di incidere sulle questioni economiche, di aiutare le imprese, di aiutare i lavoratori in difficoltà, di cancellare le porcherie fatte dal governo Monti e dal governo Letta, di intervenire per risolvere i problemi dei nostri concittadini. Abbiamo il potere di farlo, abbiamo l'ambizione di farlo, abbiamo la determinazione e la volontà per farlo. Con un solo limite, che siamo al governo con degli alleati, che non sempre condividono le nostre battaglie, che qualche volta ci guardano con l'intenzione di metterci bastoni tra le ruote per non farci apparire come quello che vogliamo essere, cioè quelli che risolvono i problemi e creano davvero la macro regione del nord, è un limite che abbiamo sperimentato anche nel governo di Roma. Ma io sono convinto che l'alleanza forte, la solidarietà di cui parlava anche chi è intervenuto prima, tra le regioni, la solidarietà anche economica possa superare questi limiti. È il nostro impegno quotidiano di governatori. Ma l'impegno di governo non è sufficiente, occorre anche qualcosa in più. Occorre un'azione politica da parte della Lega che sia forte, che sia decisa, che riporti la Lega a innalzare le bandiere dell'identità, che consideri l'azione di governo importante ma non unica. Dobbiamo riprendere quella Lega delle origini che scende in piazza, che fa le battaglie, che riempie le piazze. Siamo gli unici che possono farlo, non contro chi governa ma a sostegno dell'azione che noi abbiamo messo in campo anche oggi nei contenuti. Queste due azioni parallele hanno bisogno di avere un cambiamento negli assetti. Non è questa la sede per parlarne, ma ve ne voglio accennare ugualmente, visto che è finito sui giornali. Io faccio il governatore e voglio fare il governatore. Voglio fare il governatore della Lombardia a tempo pieno. È l'impegno che ho preso quando sono stato eletto. È la cosa giusta da fare, perché serve alla Lega e quindi non posso e non voglio contemporaneamente continuare a fare il segretario della Lega. Non è una rinuncia perché è troppo lavoro. Non mi ha mai spaventato il lavoro e l'impegno. penso però che sia giusto in questo momento distinguere le due azioni nell'interesse della Lega. Ci aspettano mesi difficili, complicati, con battaglie terribili. Che cosa succederà al sistema politico? Berlusconi rimane, non rimane, il PDL? C'è un vasto consenso che noi possiamo cogliere, prendere, articolando la nostra proposta, la nostra offerta politica, più di quanto oggi riusciamo a fare. La Lega non è solo il governo delle regioni del Nord. Oggi è così. Deve essere anche qualcosa di più. Deve parlare al cuore, non solo al cervello o alla mente dei cittadini. Va bene l'economia, va bene il lavoro, va bene l'euro, ma anche l'identità, ma anche il sogno, ma anche la speranza, ma anche la bellezza delle cose che toccano il cuore devono essere riprese. E per fare questo, io ne sono convinto, è giusto e utile che la Lega vada a congresso per eleggere un segretario federale che abbia queste caratteristiche, che rappresenti il futuro, che rappresenti la passione, che sia capace di organizzare il lavoro, che organizzi i militanti e che faccia tornare a rullare i tamburi del Nord. Imposizione dialettica rispetto ai governatori, ma anche come spirito critico, stimolo costante. Questo è la convinzione che ho maturato, e per cui, non sapendo se si andrà al voto per l'elezione politica a febbraio, sapendo che si andrà a maggio, può anche darsi che si anticipi che si vada a febbraio, io penso che prima lo facciamo e meglio è. Per cui ho pensato di organizzare, di proporre al Consiglio federale, che terremo settimana prossima, il congresso federale per il 14 e 15 dicembre, con una novità. Si è tanto discorso in questi giorni, polemizzando anche delegati nuovi, delegati vecchi, facciamo i nuovi delegati. Io sono convinto che sia giunto un momento di andare oltre questi cavilli, queste regolette. Io voglio dare la parola ai militanti e voglio che il nuovo segretario sia eletto da tutti i militanti. Per cui proporrò al Consiglio federale che si proceda, lo Statuto dice un'altra cosa, va bene? Per la prima volta voglio che si proceda all'elezione diretta del segretario federale della Lega, dando il voto a tutti i militanti, quelli che hanno almeno cinque anni di anzianità. Formalmente la decisione spetta al Consiglio federale, ma è una decisione che io ho già preso, quindi il Consiglio federale, vero? Ratificherà. Quindi potete già dirlo, potranno votare il nuovo segretario federale della Lega tutti i militanti che hanno almeno cinque anni di anzianità. Il Consiglio federale deciderà le regole. Ci sono due, non lo so voi che cosa pensate, ma ci sono due correnti di pensiero, ma solo una questione organizzativa. O lo facciamo il voto prima del Congresso nelle sezioni provinciali, per esempio, oppure portiamo tutti i militanti facendo una grande assemblea totalitaria che dà l'idea della forza della Lega. Noi non siamo un gruppetto di sfigati. Noi siamo il grande popolo della Lega. E io sono di questa idea. E io sono di questa idea. Li portiamo tutti a Torino il 14 e il 15. Sarà faticoso far votare 10.000 militanti o quello che è in due giorni. Bene, terremo aperte le urne anche di notte se serve. Ma io voglio che si dia l'idea della potenza della Lega, perché noi siamo questo. La Lega Nord è questo. Abbiamo una forza straordinaria. È il momento di mostrare i muscoli. Ce li abbiamo. Va bene il cervello, va bene il Governo, ma quando serve bisogna tirar fuori gli attributi. Bisogna far vedere che noi abbiamo i muscoli. Quindi, concludo ringraziandovi ancora. Adesso, Federico Bricolo, questi documenti devono essere fatti circolare, devono essere comunicati a tutti. Dobbiamo migliorare la comunicazione, dobbiamo migliorare la formazione. Le prossime elezioni amministrative che si terranno a maggio dell'anno prossimo saranno quelle generali. Riguarderanno migliaia di comuni. Io voglio che i nostri candidati sindaci per allora siano candidati sindaci che sanno come si asfaltano le buche, ma che prima di tutto sappiano che cos'è la Lega e quali sono le battaglie della Lega. E quindi c'è in una mozione la scuola di formazione per gli amministratori che dovranno frequentare quelli che intendono candidarsi a sindaco. Voglio gente capace e voglio gente che la Lega valuta se è davvero leghista oppure no. E accanto a questo però una scuola di formazione politica, perché chi vuole occuparsi di Lega, chi vuole parlare di Lega sappia quali sono i temi, quali sono le questioni. Porti il contributo che serve, come si è visto oggi, a migliorare anche l'azione della Lega. Questi due sono investimenti che dobbiamo fare. Sapendo che abbiamo pochi soldi, ne avremo sempre meno, il finanziamento pubblico ai partiti giustamente finisce perché i movimenti politici veri come il nostro devono avere la capacità e l'ingegno di autofinanziarsi. E solo chi ha questa capacità e questo ingegno come noi l'abbiamo riuscirà a sopravvivere. È una sfida, ma che noi siamo in grado di vincere. Poche risorse, ma questi sono gli investimenti giusti. La scuola di formazione amministrativa e la scuola politica. E poi la comunicazione. Dobbiamo comunicare sempre di più e sempre meglio attraverso i nostri mezzi di informazione, Radio Padania Libera, la Padania, ma non solo, i nuovi mezzi della comunicazione web. In questo abbiamo un campione, più di uno, Matteo Salvini, che è bravissimo. Ecco, sono tutte iniziative che vanno nella direzione giusta, che è selezionare come spendere i nostri soldi per le cose importanti. E la cosa più importante oggi è quello che abbiamo fatto, l'emozione che abbiamo approvato. È la fase 1, diciamo, dell'azione di rinnovamento della Lega, di investimento sul futuro. Oggi i contenuti dell'azione politica. A metà dicembre il Congresso che eleggerà il nuovo segretario federale. Vi ringrazio davvero, grazie a tutti e viva la Lega!